proprio prestissimo, però era carica, vogliosa di far vedere quello che veramente sapeva fare vogliosa di dimostrare che lo short era stato un incidente di percorso un po' la stessa storia di Carolina e hanno reagito, e anche questo è da campione bisogna dire hanno davvero trovato la forza per reagire e non era facile coppia di artistico, terza, Vera Bazzarova, Yuri, Dario, No I remember, I remember to be here as what you hold me I remember, I remember to be here as what you hold me Time can be just better, to be here Grazie. 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 Grazie a Bazarova, Yuri, Larionov. Non era la gara fortunatamente per la caduta di Vera. Anche perché non è facile pattinare in questa condizione di luce anche. I pattinatori hanno meno riferimenti. Per il gara è sempre un po' un problema. Sì, è vero. Anche se oggi hanno lasciato un po' più di luce, non ci sono questi spot così fastidiosi.